La cosa magnifica è che una stragrande maggioranza di questi anni li abbiamo condivisi. La faccenda è che stamattina Non sono vanitoso, se lo sono è per arricchire gli stilisti e quelli che mi forniscono le stoffe e il maquillage, ma in generale sono modesti. Però stamattina mi sono svegliato e sto specchio non era lo stesso, era così complice, così carezzevole. L'ho affrontato, ho detto massiva, oggi è il compleanno mio. Lui mi guarda e mi fa, cazzo con le sedi di Magrino. E io gli ho detto, specchio delle mie brame, chi è lo zero più affascinante delle ame? Sì, però lui mi ha detto, mi ha ricordato, zero calorie, zero interessi, tutta questa roba di zero, ho detto, è una fatica essere unici. Grazie 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 Pare che il cielo, dopo averlo sponsorizzato dal 73 in poi, mi ha voluto fare un regalo. Quella che cade non è pioggia, è champagne. Volevano Direstati urlinati Non perdiamoci mai! Ciao amore Signore e signore, lo spettacolo è terminato, scusateci, ma non abbiamo la possibilità di andare avanti. Grazie per tutti voi e per tutti i nostri settori.